Penitenza e umiltà. 24 giugno 1975. Figli di Letti, avete scelto bene il giorno per il vostro pellegrinaggio. Festeggiate oggi il santo precursore che mi annunciò alle turbe radunate nel deserto presso il fiume Giordano. Il desiderio di farmi conoscere ed amare era vivo in lui, che mi conosceva ed amava. Santificato fin dal grembo materno dalla mia presenza nel seno di Maria, aveva trascorso con me la sua prima infanzia. La luce, che veniva a lui dalla grazia, gli permetteva un profondo amore e una più chiara conoscenza del figlio di Dio. Ma chi fu Giovanni? Fu la voce che annunciò agli uomini il dovere della penitenza sotto la duplice forma di umiltà e carità. Egli fu l'uomo forte che, non essendo vissuto nel lusso e nelle mollezze, poteva proclamare agli altri di vivere nella mortificazione e poteva condannare l'errore. Non ti è lecito. Osò dire ad Erode e le sue parole gli valzero una condanna. Figlioli. La voce di Giovanni si ripete e si ripete continuamente lungo i secoli. La madre mia è anch'essa la voce che grida e, purtroppo, ancora nel deserto, poiché gli uomini, sordi a questa voce, ancora peccano. Lo stesso rimprovero di Giovanni il Battista è quello che io e la madre mia dovremmo ripetere. Non è lecito sconsacrare le famiglie e dividere ciò che Dio ha congiunto. Non sono leciti certi amori che sanno di fango piuttosto che essere legami voluti da Dio. Occorre ancora penitenza ed umiltà. Mortificazione e preghiera. Se si vuol risanare ciò che è guasto. Il mondo, come Erode, ripete la sua condanna. Ma la legge è sempre quella. Godo che siate venuti qui ad attingere forza per vivere cristianamente e poter senza timore condannare l'immoralità e la lussuria. Vi benedico, figli, e prego con voi. Sono Gesù di misericordia.